Scatta alle 17 di lunedì 16 luglio la chiusura al traffico di Ponte Buriano che si trova lungo la Sette Ponti per il secondo step dei lavori di restauro del Ponte Romanico, lo stesso che Leonardo volle nello sfondo della sua Monna Lisa. In tutto sono stati investiti circa 700 mila euro per risanare interamente i rostri che si trovavano in condizioni davvero precarie e salvaguardare così questa importante opera d'arte. Fino alla fine dei lavori prevista per venerdì 31 agosto il ponte ancora oggi attraversato da oltre 10 mila veicoli al giorno sarà off limits ad auto e mezzi pesanti. Da ricordare bene dunque quali saranno i percorsi alternativi da e per Arezzo. Le auto verranno dirottate a Ripa di Quarata verso la provinciale 43 della Libia fino alla rotatoria di Campolucci direzione Castelluccio proseguendo poi verso la provinciale 56 dello Spicchio fino a Ponte Buriano e viceversa. Per i veicoli invece superiori alle 7 tonnellate e mezzo raggiunta la località di indicatore dovranno percorrere la strada regionale 69 del Valdarno dalla quale attraverso il reticolo di strade provinciali e comunali sarà possibile collegarsi con tutti i centri del Valdarno. La provincia ha previsto alcuni lavori per cercare di migliorare questa viabilità alternativa che nella prima chiusura aveva creato diversi disagi. Innanzitutto abbiamo previsto di mettere in campo delle opere di miglioria della sede stradale della strada alternativa, quella dello Spicchio, con l'allargamento della banchina nei tratti più stretti e alcune risistemazioni e l'implementazione della segnaletica orizzontale e soprattutto abbiamo appunto previsto l'installazione delle telecamere sia a nord che a sud che funzioneranno da deterrente per gli eventuali trasgressori. Oltre questo abbiamo tenuto anche dei vari incontri con tutti gli enti, con i comuni preposti e con la prefettura per cui anche le forze dell'ordine, i carabinieri e le polizie municipali ci daranno una mano insieme alla nostra polizia provinciale per appunto controllare che le prescrizioni vengano rispettate e quindi far sì che il traffico che purtroppo dovrà in maniera obbligata a percorrere quella viabilità insomma sia sicuramente in sicurezza e diciamo crea i minori disagi possibili per i cittadini.